Nell'ambito del comportamento e degli atteggiamenti sociali la discriminazione è quell'atteggiamento malvagio atto a distinguere e trattare differentemente persone sulla base di gruppi o categorie di appartenenza. Essa comprende la reazione o l'interazione iniziale del gruppo predominante il quale intende limitare i membri di un gruppo minoritario nelle opportunità e privilegi e diritti disponibili invece alla maggioranza delle altre persone e conducendo in tal maniera all'esclusione sociale delle persone di quelle entità basandosi su decisioni e motivazioni del tutto irrazionali. La discriminazione è una violazione dei diritti umani e quindi totalmente, completamente e irrimediabilmente incompatibile con il cristianesimo.